Stiamo per prendere la nuova variante di Valico, siamo sulla 1 direzione Milano e tra poco, va bene ora c'è la nebbia, stiamo ad essere già in Padania, stiamo prendendo la variante di Valico e ragazzi, tra un po' vedremo Non si vede una sega ragazzi, però tra poco, eccoci, stiamo per entrare nella variante di Valico che ci porterà a Bologna in un quarto d'ora in meno ragazzi, dopo 10 anni di lavori, incredibile, incredibile, incredibile ragazzi Mi sa che hai preso la strada vecchia? No, c'è scritto variante dritto Ecco, abbiamo iniziato ora la variante di Valico e stiamo procedendo per la prima volta ragazzi dopo 10 anni, incredibile, è emozionantissimo, ciao ragazzi, buon Natale